Buongiorno ragazzi ben tornati in questo prossimo video, si di nuovo in macchina allora ci stiamo dirigendo di nuovo verso un altro posto abbandonato che è una discoteca che ha chiuso un po di tempo fa per spaccio di droga e la prima parte l'abbiamo già visitata e cioè ne stiamo andando per dei problemi, la seconda la stiamo andando a fare adesso detto questo ci vediamo dopo Regà non è stata forse una buona idea venire di notte forse non è stata una buonissima idea ma qua ci stavano ste bombole mi sto letteralmente cagando addosso se vedo qualcuno anche solo avvicinarsi o provare a finire qui lo spacco di botte lo spacco di botte lo spacco di botte qua ci sono i bicchieri tutti listino prezzi ragazzi continuiamo forza non ci spaventa niente è buio ah eccolo vedi fico molto fico pezzato un bicchierino quindi stiamo attenti raga qua sotto c'è sempre quella cosa ma dove si va qua qua ci dovrebbero essere tutte le chiavi e infatti vedi è un guardaroba qua dietro niente da particolare lì hanno uno spostato proprio il mobile ti ricordi le frequenze infatti qua c'è stava la piantina la bussanta vedete qui stavano proprio qua per stefano po' un'altra per stefano po' siamo qui non potrebbe anche non leggere mi sembra andato sicuro oddio oddio È una mantide, è una mantide, sembra. La tua madre può starla. Mori, mori deficiente. Mori deficiente. Abbiamo visto questa? Ma questa l'abbiamo vista? No, l'abbiamo visto. L'ultimo momento è interessante qualche messa. E' tutto l'impianto. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente, ragazzi, una stanza buona. Sì? Non c'è niente. si sente l'audio anche abbiamo trovato le macchine un furgone un furgone tutti ribalzati furgone qua dietro assurdi sono ancora tutti intatti eccoci qua ragazzi con il nostro posto alle spalle abbiamo completato pure questa e di nuovo c'erano le due macchine e un po di cose infatti è stata anche un'esplorazione un po confusionale per il semplice fatto che era più difficile ma effettivamente è vero vogliamo farvi una proposta rega allora adesso poggio un altro allora siamo sopra la macchina se questo video arriva a 30 like 25 like ok vi ringraziamo tanto per il supporto che avete dato sul video dell'hotel abbandonato che penso che abbia piaciuto tanto facciamo una cosa se arriviamo a 25 like e 150 visualizzazioni vai andiamo di notti non posso abbandonato qui l'erigo che lo faccio vanno più di ringrazio e niente detto questo riscrivetevi grazie 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 grazie